Una delle novità più rilevanti nel panorama senologico è che anche in Italia finalmente avremo i centri di senologia, cioè delle vere e proprie task force, composte da un gruppo multidisciplinare che combatterà i tumori della mammella. L'Europa ci aveva chiesto questo molti anni fa, l'Italia ha finalmente recepito questa direttiva internazionale e ha implementato come un documento del Ministero questa normativa, la Regione Lazio ha emanato un decreto sui centri di senologia sulle prestigioni nel febbraio del 2015. Anche noi pertanto avremo dei veri e propri centri di senologia specializzati, accreditati e le donne sapranno che per essere curate meglio dovranno recarsi da questi centri di senologia e che questi centri di senologia saranno i più indicati, i più apprezzati per potersi comunicare con il loro problema. Saranno dei gruppi multidisciplinari per cui avranno a disposizione il chirurgo, il chirurgo plastico, l'oncologo, il radioterapista, avranno un metodo di lavoro tra di loro per cui le decisioni saranno prese in conferenze multidisciplinari settimanali, ma soprattutto saranno centri che sono dedicati alla cura del craco della normella, per cui non ci potrà essere più nel futuro come c'è stato fino ad oggi che donne con tumori così importanti vengano trattate in centri che semmai fanno 20, 30, 40, 50 l'anno, ma verranno trattati in centri che sono specializzati e che fanno soltanto questo. In tutti gli studi che abbiamo fatto abbiamo capito e dimostrato che le donne operate in centri così specializzati hanno una migliore sopravvivenza ed è quello che vogliamo fare.